mi serve un pokemon contagion lui non cominciare e ti chiamo così si cos'è adesso sia Adlarz che Flavia a supportarmi quindi ce la possiamo fare dai ce la dobbiamo fare più che altri buon bambin gesù devo smettere di velocizzare ok oh no cosa vuoi adesso vattene sui tu da flat o saranno guai mai ti prego non spruzzarne più vattene da flat o lo farò di nuovo ti prego risparmimi no raspar vabbè e no non mi corromperai tanto facilmente adesso conta fino a 3 1 2 aspetta 3 ok me ne vado via con quale velocità quanta cristo di strade non ho nemmeno scarpe da corsa stai sto velocizzando questo è il bello oh se n'è andato slade port city si devo rettanto conoscere il genio che penso di creare una città dentro un vulcano dentro ha un vulcano se il vulcano è ruta siamo fritti si lo sai che la lava si può bere una volta sola però tieni senza commodiva questa MN quella MN continua a sbaccaroccia grazie magbi osi sfidare il mio samsung e c'ha fossi stato in ivan fg cap fossi stato in ivan avrei banato banato subito l'ex non è andato dal forum dopo aver scoperto i suoi account banato banato che belli movimenti sbagliati chissà chi è questo ho paura minimo è ivan io sono ivan il fondatore del forum si io sono quello che ha scoperto gli account di l'ex 98 ma in compenso l'ho perdonato prepararti a perdere alp avrà farfetch e scavalier però anche farfetch dai si alp riceve la medaglia forum la MN contiene onda shock mi raccomando iscriviti al forum pocomonlaking.it e grazie a divan fgk che ha l'ex 98 e potuto maturare di più Flavio fare da HM Slave in questa run mi spiace tu eccoti finalmente noi siamo le dure zie ma nella trama erano previste delle dure peripezie ops comunque per passare devi lottare lo stesso ci stai si preparati a perdere ok Flavio c'è la mia ultima speranza vai che scatole che scatole che scatole oh e ti chiamiamo Cushy così ora ero anche Malna la vittoria è sempre più vicina per questo 90 no adesso ti faccio vedere le mie tette tecniche delle inaltriche avete capito bambini per l'amore del buon bambino Gesù perché ho cambiato improvvisamente palette hey Alp quel tuo nuovo luca azzurro ti dona molto comunque quindi ci facciamo una notte veloce veloce sì sì ok oh buon dio Pikachu vai Flavio vai vai lard ok lard best pokimman della run per ora nooo comincia dai 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 attacca e buon dio dov'è 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 l'avevo presa infatti aia potevano essere paralizzati con elettro sì potevano essere paralizzati qua perfetto dai 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 muori stronzo oh notare che gli amascotti e bagon come rivale di pokemon d'avventura fento ah che di cui l'exon si è ispirato ma ventura fento non è che sei questo gran capolavoro te lo dico io questi per ok lega di flat ho la paura in corpo ma lo facciamo la prossima volta perché ora non ho la voglia in corpo ok bene ciao